Qui vi voglio. Qui voglio anche le vostre risposte. Quale potrebbe essere un colpo di scena a Backlash 2024? Un colpo di scena. Beh, chiaramente parliamo di risultati, ok? Il colpo di scena massimo di Backlash, un campione che perde subito, chiaramente. La vittoria di Jey Uso, quella di AJ Styles, ma secondo me il colpo di scena più grande, dopo l'enorme inseguimento, valutando anche il blasone delle avversarie, sarebbe la sconfitta di Bailey. Perché tutto sommato, negli altri match, abbiamo delle situazioni, beh, confidanti che sono già qualcuno. AJ Styles non ha bisogno di presentazioni. Jey Uso non ha mai vinto un titolo singolo, però è un baluardo della divisione Tech Team. Uno dei più vincenti in quel contesto. È in rampa di lancio. Mentre le avversarie di Bailey sono Naomi, che è tornata da poco e da tanti anni, non è una vera main eventer, e Tiffany Stratton, che ha sì degli sprazi di tifosi sparsi per il mondo, che attira sì l'interesse, però in WWE non ha ancora fatto un granché, almeno ai piani alti. Quindi, in generale, un colpo di scena ragionevole può essere la sconfitta di Bailey. Se andiamo a cercare le cose fantasiose, beh sì, Cody Rhodes che rinnega i fan, però qua siamo nella fantascienza. Cody Rhodes che diventa cattivo. Durante il match contro AJ Styles, capite che non ha molto senso, già che viene proposto come il nuovo John Cena, il Boy Scout, senza macchia, senza paura, capitano America. Oppure Triple H che torna a lottare, ma ha problemi al cuore e poi non ha un match chiaro sulla carta con chi dovrebbe combattere. Non ha una rivalità in corso, fa sempre il dirigente bravo, amichevole, entusiastico. Quindi, se dobbiamo cercare un colpo di scena, ecco, che potrebbe lasciarci perplessi e che potrebbe effettivamente capitare, secondo me il colpo di scena più grosso sarebbe la sconfitta di Bailey. Tutta questa rincorsa per distruggere le damage control, tempo un mese ed è punto a capo, senza niente tra le mani. Questo potrebbe essere il colpo a sorpresa giusto. Ritorno di Brock Lesnar? Se lo giocano in Francia? In un orario televisivo che magari non è utile agli americani? Non lo so. Su quello sono un po' scettico, fermo restando che su Brock Lesnar, lo sappiamo, c'è questo punto interrogativo, questa incognita della denuncia, della questione scabrosa che ha coinvolto Vince McMahon e nella quale potrebbe essere trascinato.